Musica Ufficializzato il sit-in dei sindaci a Roma il 18 aprile per risolvere i problemi della sanità molisana. Truffa dei bonus edilizi revocati domiciliari per i tre indagati molisani coinvolti nell'inchiesta della Guardia di Finanza. Regionali sul tavolo del centro-sinistra arrivano altri due candidature alla presidenza della regione, spuntano Lino Gentile e Domenico Iannacone. Riapertura parziale del Ponte Sente è un'ipotesi sempre più vicina di cui si discuterà durante un incontro convocato al Ministero per il 20 aprile. Comunali di Venafro e possibili candidati sindaco ancora alle prese con l'individuazione di nomi pesanti da inserire in squadra. Buonasera dalla redazione del Tg di TV in Molise. Apriamo con la sanità. La conferenza dei sindaci ha ufficializzato la manifestazione di protesta in difesa della sanità molisana per il prossimo 18 aprile davanti alla sede del Ministero della Salute a Roma. Atteso un incontro dei primi cittadini con il ministro Schillaci. Vediamo di più con Antonia Cristinzio. La conferenza dei sindaci ha ufficializzato il sitino a difesa della sanità molisana per il prossimo 18 aprile sotto la sede del Ministero della Salute a Roma. L'emblema della protesta, l'articolo 32 della Costituzione, per l'occasione verrà stampato su uno striscione. Daniele Saia, presidente della conferenza dei sindaci, ha esposto i temi essenziali del documento elaborato dei primi cittadini che sarà presentato al ministro Schillaci in un incontro atteso al termine della manifestazione. È giusto che i rappresentanti di tutti i territori prendano questa posizione nei confronti del Ministero. Speriamo percorre fine a questa situazione di commissariamento e rindirizzare la sanità verso un equilibrio economico che porti i servizi giusti a tutti i territori. Il Molise è la regione più piccola d'Italia, è l'unica regione che ha un'idea di secondo livello. È una regione che viene trattata come le altre, ma che certamente ha delle caratteristiche diverse. Noi siamo di fatto un'area interna integrale, tranne la parte costiera. Quindi, visti questi 14 anni dove non c'è la sostenibilità economica, bisogna capire dove c'è questo buco per perpetuare i servizi, soprattutto sull'emergenza e urgenza, ai cittadini che si devono sentire sicuri di vivere in questa regione. Soprattutto il problema fondamentale di questa regione è lo sviluppo. Se si vuol dare sviluppo, ci devono essere i servizi sul territorio. I servizi sanitari sono i primi servizi che devono essere dati. Così come è avvenuto per altre regioni, anche per il Molise vanno previste azioni straordinarie, mirate all'azzeramento del debito e alla realizzazione di un modello sostenibile nel tempo. Noi pensiamo di chiedere quello che è scritto sulle carte, sul PM70. Agnone è un'area particolarmente disagiata e deve avere un ospedale di area particolarmente disagiata che sia configurato come tale. Non è che a ogni piano operativo che viene riproposto ogni tre anni le cose scritte non vengono attuate. Noi siamo in attesa di alcune strumentazioni da diversi anni che non sono ancora state messe. Intanto il sindaco Castrataro rilancia e invoca maggiori risorse. La sanità ha bisogno di un investimento ulteriore da parte dello Stato, la percentuale di contribuzione è bassa. In più siamo una popolazione che invecchia e quindi maggiori risorse che vanno sicuramente sfruttate meglio, ma dobbiamo superare assolutamente questo momento. Revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei tre indacati molisani nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Isernia Castelli in aria. Inchiesta che ha permesso di smascherare una presunta maxitruffa milionaria sul bonus edilizio. E passiamo ora alla politica. Sul tavolo del centro-sinistra altre due candidature per la presidenza della Regione. I Verdi hanno fatto il nome di Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, e Molise domani ha fatto quello di Domenico Iannacone, giornalista della RAI. Intanto domani presentazione a Campobasso del movimento civico Il Molise che vogliamo. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Candidature alla presidenza della Regione. In attesa del vertice del centro-destra in programma per venerdì a Isernia. Con il senatore Claudio Lotito le uniche novità arrivano dal centro-sinistra che continua a riunire il suo tavolo dei responsabili dei partiti e dei movimenti civici in attesa delle decisioni di Giuseppe Conte che ha convocato per domani a Roma i suoi esponenti molisani. Due le novità emerse dal tavolo del centro-sinistra che si è tenuto ieri pomeriggio. Ai nomi presenti nella lista dei papabili, che erano già stati presentati la scorsa settimana, vale a dire Facciolla, Fanelli e Paglioni per il PD, Nola e Primiani per i 5 Stelle, se ne sono aggiunti altri due. I verdi hanno messo sul tavolo il nome di Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, mentre Molise domani ha calato la carta del giornalista Domenico Iannacone, il cui nome ora è ufficialmente a disposizione della coalizione, anche se, come è noto, sulla sua candidatura ci sono delle forti resistenze, principalmente da parte dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, nonostante la candidatura del giornalista sia vista con favore dallo stesso Giuseppe Conte. E proprio per dipanare la matassa, domani è in programma un vertice romano tra esponenti locali del Movimento e l'ex premier. Successivamente ci sarà un nuovo summit della coalizione, che potrebbe essere quello definitivo, anche perché dalla prossima settimana, almeno è quello che trapela, partiti e movimenti vorrebbero concentrarsi sulla formazione delle liste. In caso di mancato accordo su questi nomi, il centro-sinistra sarebbe pronto a calare l'asso. E circola negli ambienti con insistenza il nome del presidente del Tribunale di Isernia, Enzo Di Giacomo, che alla fine potrebbe mettere tutti d'accordo. All'operazione starebbero lavorando esponenti del PD e la soluzione potrebbe aiutare a superare anche le resistenze del Movimento 5 Stelle. Ma tutto dipenderà dal summit in programma domani con Giuseppe Conte. Infine, sempre domani, Claudio Pian presenta alle 10.30 al Centrum Palace di Campobasso il suo movimento, il Molise che vogliamo, moderato, di centro, disponibile a guardare al futuro, con soluzioni fortemente innovative per lo sviluppo della nostra regione. Queste le intenzioni annunciate dall'ex vertice di sviluppo Italia Molise. Ancora ladri in azione a Campobasso. Questa volta è stata un'attività commerciale a finire nel Mirino e più precisamente il bar del terminal degli autobus, già altre volte oggetto di furto. I malviventi hanno sfondato il vetro del punto vendita con un mattone e si sono intrufolati all'interno, rubati alimenti per una montare fortunatamente poco rilevante, danni maggiori invece sarebbero quelli arrecati alla struttura. Ad accorgersi di quanto accaduto la mattina di Pasqua è stato il titolare a cui non è rimasto altro che chiedere l'intervento della Polizia per un sopralluogo e per denunciare quanto successo. E passiamo ora alle comunali di Venafro. A pochi giorni dalla presentazione delle liste, i possibili candidati sindaco sono ancora alle prese con l'individuazione di nomi pesanti da inserire in squadra. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Oltre a quelli uscenti, i candidati consigliere effettivamente disposti a scendere in campo, pesanti dal punto di vista della capacità di fare voti, sì, il termine è bruttino ma rende l'idea, sono al massimo una ventina. Se la considerazione di un politico locale, profondo perché diretto conoscitore delle dinamiche e dei segreti meccanismi elettorali, trovasse conferma, beh, in Lizza, alle prossime comunali di Venafro, ci sarebbero solo due liste. E scusate se è poco, si potrebbe dire a mo' di facezia, ma per esprimere una situazione reale. Mentre in vista dell'inizio ufficiale della campagna elettorale, si attendono di sentire dispiegate idee e programmi per la città, sempre confortati dal suo evocato esperto, di teoria e soprattutto prassi di campagna elettorale, arrischiamo un semplice calcolo. La campagna mediamente costa a ciascun candidato 2-3 mila euro a voler star cauti. Chi decida di accettare la chiamata e abbracciare la causa dell'aspirante sindaco di turno sa che quei soldini o soldoni, a seconda del punto di vista o del punto di lista, fate voi, rientreranno solo in caso di clamoroso risultato personale, da incrociare poi e necessariamente con la vittoria della compagine di appartenenza. Diversamente, anche con centinaia di voti rastrellati, il fantomatico candidato sarebbe relegato tra i banchi della minoranza. D'altra parte, anche se si trovasse nella lista premiata dalle urne, qualora quella messe di preferenza non gli consentisse di collocarsi tra i primissimi eletti, ben difficilmente gli garantirebbe uno scranno da assessore e dunque l'indennità. soldini, soldoni, anche qui giudicate voi, ma il ritorno, oltre che in termini di esperienza nella macchina amministrativa comunale, di natura economica, è una variabile valutata da molti ai fini della candidatura per Palazzo Cimorelli. E dunque, detto questo, a proposito della composizione delle squadre in lizza, siamo al countdown finale. Il conto alla rovescia più caldo in vista della presentazione delle liste è iniziato infatti proprio oggi e scade tra tre giorni, rievocando la metafora calcistica. Per il massimo titolo a Palazzo Cimorelli ci sarà uno scontro diretto o un torneo a più squadre? Una donna di circa 80 anni è stata vittima questa mattina di un tentativo di scippo a Termoli. L'anziana, come riporta PrimoNumero.it, è stata avvicinata da un giovane che ha cercato di portarle via la borsa strattonandola e facendola cadere a terra. La signora è stata soccorsa da alcuni passanti mentre lo scippatore è riuscito a scappare. Nel Consiglio Comunale di Campobasso si è parlato del corpus domini e degli avvenimenti più importanti che saranno organizzati. prevista anche la presenza del noto rapper Fabri Fibra. Scopriamo di più nel servizio di Francesco Adamo. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Campobasso si è parlato delle festività del corpus domini. Dando seguito a quanto già sperimentato l'anno scorso, ci saranno due aree eventi. Una in centro e l'altra a Selvapiana. Nel centro cittadino anche l'area fieristica con le caratteristiche bancarelle. si parla di ospiti musicali dal grosso seguito. Fabri Fibra su tutti così come anche Paola Turci, Sergio Caputo e Di Modà. Quindi un ventaglio di gusti e genere musicali vario. Sempre per le festività del corpus domini è stata discussa la proposta fatta dal consigliere del PD Giose Trivisonno di predisporre un'area food tutta molisana nella fiera del corpus domini. Questa proposta ha ricevuto la condivisione da parte della maggioranza e dal tal riguardo l'assessore Paola Felice ha confermato la disponibilità a discuterne in Commissione Commercio in modo da offrire alle attività locali sempre maggiori occasioni per mettere in risalto le proprie tipicità. Altro argomento affrontato nel corso del Consiglio Comunale a seguito di una mozione presentata sempre dal consigliere Trivisonno è stato quello relativo alle fototrappole alle discariche abusive e al conferimento illegale dei rifiuti che avviene in alcune zone della città. Riguardo a questa mozione l'assessore Cretella ha assunto una posizione critica riferendosi alle caratteristiche tecniche delle fototrappole non utili nei contesti urbani mentre viene utilizzata in altre situazioni con migliore riuscita. Cretella ha sottolineato come nell'ambito dei finanziamenti ottenuti con il PNRR sono previsti sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio e controllo dei punti critici nel territorio con telecamere ad alta definizione che potranno servire concretamente per l'ottimizzazione dell'arcolta differenziata aiutando anche a contrastare l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Nel suo intervento ha annunciato anche che una nuova spinta ai controlli giungerà dall'inserimento in organico di cinque nuovi ispettori ambientali. In vendita allo storico hotel Capracotta i proprietari hanno pubblicato l'annuncio di vendita affinché la struttura possa continuare a svolgere il suo storico servizio di accoglienza e soggiorno turistico nel comune Alto Molisano. Andiamo ora a Disernia dove la società che gestisce le ferrovie ha presentato un progetto al comune per la realizzazione di una nuova stazione con un centro commerciale sotterraneo e la riqualificazione di Piazza della Repubblica con fondi provenienti dal PNRR. Si attende ora il via libera da Palazzo San Francesco. Vediamo il servizio realizzato da Antonio Leone. Un progetto avveniristico che potrebbe cambiare il volto della città di Sernia il gruppo Ferrovie ha presentato in comune uno studio di fattibilità per riqualificare la stazione del capoluogo Pentro investimenti per diversi milioni di euro che serviranno per riqualificare l'intera area a partire dall'edificio che attualmente ospita la stazione per poi passare a Piazza della Repubblica antistante l'attuale stazione e che sorge su un suolo sempre di proprietà della società che gestisce le redi ferroviarie previsto addirittura un piano interrato dove sorgerà un centro commerciale con negozi e altre attività in grado di soddisfare le esigenze di pendolari e viaggiatori l'idea è quella di fare della stazione ferroviaria di Sernia un hub per i collegamenti tra l'Adriatico e il Tirreno grazie anche ai lavori attualmente in corso di elettrificazione della tratta da Campobasso a Roma l'opera di riqualificazione della stazione sarà a costo zero per il comune perché sarà totalmente finanziata da ferrovie Palazzo San Francesco dovrà solo fornire le autorizzazioni necessarie il progetto infatti prevede una serie di modifiche anche da un punto di vista della viabilità prima tra tutte l'inversione di marcia dei pullman che entreranno all'interno del terminal ci sarà tempo per decidere come apportare questi cambiamenti di natura tecnica l'intento dell'amministrazione Castradaro ora è proprio il caso di dirlo è quello di non perdere il treno e dire sia un progetto che potrebbe rivoluzionare totalmente il capologo un vecchio frigorifero è stato abbandonato alla periferia di Isernia tra Contrada San Lazzaro e Contrada Castagna dai soliti incivili qualcuno questa volta però ha pensato bene di pubblicare la foto sui social con tanto di messaggio indirizzato a chi ha deciso di abbandonare l'ingombrante rifiuto per strada 171esimo anniversario della fondazione della polizia di stato a Campobasso i caduti sono stati celebrati presso la lapide che ricorda il sacrificio di Giulio Rivera medaglia d'oro al valore civile ce ne parla Francesco Adamo questa mattina a Campobasso le celebrazioni per il 171esimo anniversario della fondazione della polizia celebrazioni iniziate presso la lapide dedicata alla memoria della guardia di pubblica sicurezza Giulio Rivera medaglia d'oro al valore civile ubicata all'ingresso della locale scuola allievi agenti con la deposizione di una corona per onorare i caduti della polizia di stato alla presenza del prefetto della provincia di Campobasso poi il proseguo delle celebrazioni hanno avuto luogo nell'aula magna della sede centrale Unimol di Campobasso la più plastica dimostrazione ha avuto luogo durante il periodo del lockdown lo stato di emergenza che è finito ricordo solamente lo scorso anno e con lo stesso spirito continuiamo a approfondire il massimo impegno per svolgere la nostra attività nei campi che ci sono devoluti il campo dell'ordine pubblico del controllo del territorio del contrasto alla criminalità le sfide sono grandissime il Molise la provincia di Campobasso è una terra di confine con la provincia di Foggia e con la campagna per cui noi dobbiamo assolutamente fare in modo che le avanguardie di alcune infiltrazioni criminali che vediamo soprattutto nel campo della criminalità predatoria poi non diventino una presenza costante L'anniversario è stato anche l'occasione per tracciare un bilancio sulle attività dell'anno trascorso è stato un anno estremamente impegnativo siamo impegnati dal punto di vista dell'ordine pubblico ricordo le manifestazioni sportive ci sono stati due casi sia a termo nel mese d'ottobre che a Campobasso che potevano degenerare e solo grazie al nostro impegno ci sono stati evitati degli incidenti ci sono stati anche degli episodi di criminalità predatoria e ricordo che il contrasto è stato fatto in modo molto forte c'è stato un lungo e coraggioso inseguimento alcune settimane fa da parte di operatori della squadra mobile che è stato concluso in provincia di Lucera in un modo anche abbastanza pericoloso perché l'autovettura inseguita poi è uscita per la forte velocità che sosteneva è andata anche fuori strada il responsabile di questo furto è stato è stato arrestato ci sono stati l'arresto dell'arresto di due rumeni responsabili di gravi atti nei confronti loro con i nazionali c'è stata tutta un'attività di prevenzione dal punto di vista del controllo del territorio soprattutto nella città di Campobasso dove tra il primo e il secondo semestre si sono registrati degli aumenti a doppia cifra dei controlli sia per le persone che sui veicoli in concomitanza lo svolgimento della cerimonia celebrativa in piazza Gabriele Pepe è messi in atto alcune iniziative delle parti speciali della Polizia di Stato è stato allestito un gazebo espositivo a cura del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica ed uno stand informativo dell'associazione Donatori Nati per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di sangue Isernia affari puntati contro i furti nelle abitazioni tra le tipologie di reato più diffuse sul territorio in occasione del 171esimo anniversario della Polizia il questore Vincenzo Macri ha lanciato un appello alla cittadinanza a bene dotarsi di sistemi d'allarme e strumentazione tecnologica vediamo prevenzione e vigilanza sono queste le parole chiave dell'attività sul territorio emerse nel corso delle celebrazioni del 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato nel capoluogo Pentro una cerimonia raccolta ma molto sentita quella che si è svolta presso il cinema teatro Lumière e che ha visto la partecipazione non solo delle autorità civili militari e religiose ma anche degli studenti ad aprire le celebrazioni il picchetto d'onore alla presenza del questore Vincenzo Macri e del prefetto Franca Tancredi nel corso della cerimonia sono state illustrate le più rilevanti operazioni condotte nel corso dell'anno in città ed è stato tracciato un bilancio dell'impegno speso quotidianamente sul territorio dagli agenti della questura di via Palatucci in particolare Isernia e Molise Tutto rappresentano a detta dello stesso questore una bellissima realtà da custodire e proteggere sebbene si tratti di una zona ancora tranquilla l'attenzione della polizia è mantenuta alta su diversi frangenti primi tra tutti la lotta contro lo spaccio di droga e i reati predatori questi ultimi soprattutto i furti nelle abitazioni sono la tipologia di reato che nel capoluogo desta maggiore allarme e per il quale il questore Macri rivolge un appello alla cittadinanza il nostro impegno come ho detto durante il mio intervento è stato si è orientato prevalentemente sul piano preventivo quindi il potenziamento delle attività di controllo del territorio e secondariamente sul piano investigativo i dati sono confortanti io non amo particolarmente i numeri perché si prestano a mille letture sempre di tipo diverso però i dati sono confortanti anche se come ho avuto modo di dire alle autorità presenti e alla cittadinanza presente rimane un terreno ristretto che deve essere aggredito e può essere aggredito solo ricorrendo a un concetto di sicurezza partecipata in cui anche i privati i cittadini si facciano carico di un minimo di investimenti in tecnologia a tutela e a difesa dei loro beni se non ci sarà questa sensibilità da parte dei cittadini sarà per noi veramente molto difficile poter andare oltre quello che è stato già fatto ricordo a tutti l'intervento nel giugno dello scorso anno presso un supermercato di Sermino fatto assolutamente singolare per questa realtà una rapina con sequestro di persona c'eravamo siamo intervenuti i rapinatori sono stati arrestati in circa 15 minuti importante è stato il contributo della cittadinanza che ci ha aiutato a ricostruire i fatti capire la dinamica e quindi ad organizzarci per l'intervento quindi noi ci siamo esserci sempre non è solo un motto a questo motto noi diamo un valore un significato che si traduce ogni giorno in azioni concrete particolarmente emozionante il momento della consegna dei riconoscimenti al personale che si è distinto per particolari meriti di servizio che esplodavano un'attività di polizia giudiziale sabato 15 aprile alle ore 18 presso Epica Villa Artemide nell'ambito dei riusciti incontri diretti settimanalmente dall'ideatrice Fatima Fraraccio verrà proiettato l'ultimo documentario di Pierluigi Giorgio La via del canto protagonisti del filmato sono il Molise e di riflesso la Puglia regioni legate da un antico cordone ombelicale il tratturo Una mostra dal respiro internazionale quella che ospiterà a partire da domani l'Università degli Studi del Molise dalle ore 10 a Campobasso nell'atrio del Dipartimento Giuridico dell'Unimol aprirà ai battenti una rassegna storico-documentaria sui campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943 Riapertura del Viadotto Sente un'ipotesi sempre più vicina di cui si discuterà durante un incontro convocato per il 20 aprile al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Vediamo Viadotto Longo Sente si fa sempre più concreta l'ipotesi di una prossima riapertura al traffico quantomeno parziale del ponte chiuso dal 2018 per problemi strutturali da quanto si apprende infatti il Direttore Generale delle Strade e Autostrade del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Felice Morisco avrebbe convocato per giovedì 20 aprile un incontro a Roma al vertice fissato per le 15.30 sono stati invitati a partecipare la provincia di Isernia e quella di Chieti e i responsabili dell'ANAS durante la riunione si valuteranno appunto le proposte che l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade ha presentato al MIT mirate alla riapertura parziale del Viadotto al Transito con vocazione che è stata inoltrata anche al Dipartimento per la programmazione strategica del Dicastero una notizia che ben due territori quello dell'Alto Molise e quello dell'Alto Vastese attendono ormai da tempo dal momento che il ponte è un collegamento vitale tra le due aree recentemente per sollecitare le istituzioni a un intervento in tempi brevi qualcuno come ad esempio gli imprenditori abruzzesi provocatoriamente aveva invocato il passaggio dei ciclisti del Giro d'Italia sull'infrastruttura se l'incontro romano andrà a buon fine non sarà necessario ricorrere a tali espedienti giorni fa era stato approntato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza come riferito dall'Agi del tratto compreso tra Belmonte del Sannio e Castiglione Messer Marino il ponte è stato chiuso al traffico a causa della rotazione di due piloni il numero 2 e il numero 7 l'opera realizzata tra il 1974 e il 1977 è il viadotto più alto d'Italia e il secondo più alto in tutta Europa con i suoi 185 metri d'altezza costituito da campate di 200 metri e lungo 1200 metri come riferito all'Agi dall'ANAS gli interventi prevedono lavori di prima fase con riapertura al traffico con limitazioni di portata e lavori di seconda fase per la sistemazione definitiva dell'opera e l'eliminazione di tutte le limitazioni per la prima fase è stato completato il progetto esecutivo ed è in corso il confronto con il MIT per il reperimento della necessaria copertura finanziaria sabato 15 aprile torna in scena il teatro popolare IAMBEL a Guardia Alfiera gli attori dell'associazione culturale L'Aretè di Isernia andranno in scena con un doppio spettacolo diretto da Giampaolo Duva La Iurnata e La Veglia Per gli studenti del Giordano di Venafro un'altra giornata di formazione sulla questione ambientale illustrati i dati del monitoraggio delle polveri sottili il servizio è di Domenico Marzocchella Fornire agli studenti dei dati oggettivi sull'inquinamento a Venafro e nell'Interapiana e far comprendere loro che possono giocare un ruolo attivo a contrasto dell'inquinamento sono gli obiettivi del convegno in corso di svolgimento presso l'Istituto Omnicomprensivo Giordano di Venafro Inquinamento e clima è il titolo della conferenza organizzata dal comitato studentesco di quella scuola incentrata sulla presentazione e soprattutto sulla spiegazione dei dati rilevati dalle centraline di Meteo in Molise che dallo scorso dicembre stanno monitorando H24 il livello di polveri sottili in diverse aree della città Noi proseguiamo sulla direttrice informazione e formazione a volte intorno a questo tema subentrano anche conclusioni abbastanza fantasiose è un po' quello che sta ripetendo ai ragazzi spensieri di Meteo in Molise che non bisogna dire che Venafro è tutta inquinata ci sono zone inquinate e quindi noi andiamo ai dati scientifici e ragazzi sono quelli che devono acquisire questi dati devono capire in che ambiente si trovano che cosa possono fare come possiamo cambiare meglio questo ambiente si può dire che Venafro sia molto inquinata oppure si tratta di pericoloso allarmismo ma io direi che anche in questo caso le cose vadano divise nel senso che ad oggi le stazioni di monitoraggio che abbiamo installato ci restituiscono dati preoccupanti questo però non significa che tutta l'area di Venafro sia inquinata credo che sia particolarmente grave poi dire che l'area di Venafro sia inquinata io direi piuttosto che le stazioni di monitoraggio ad oggi restituendoci un dato oggettivamente elevato ci devono sostanzialmente far accendere quantomeno dei campanelli di allarme Cosa si augura che a questi ragazzi possa rimanere della sua lezione speciale? Io mi auguro che innanzitutto loro possano quantomeno avere consapevolezza di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe accadere sono convinto e sono certo che i ragazzi di oggi siano particolarmente intelligenti e abbiano soprattutto strumenti atti a poter agire di conseguenza rispetto a quanto avviene Il Molise e soprattutto la nostra cittadina si sta spopolando non va bene anche perché diciamo viene visto sempre con un'accezione negativa è inquinata non ci sono opportunità e in realtà noi qui abbiamo molte opportunità e dobbiamo fare qualsiasi cosa infatti come abbiamo letto con i dati possiamo fare qualcosa per impedire tutto questo abbiamo letto un dato in particolare quello del primo gennaio 736 il PM10 le particelle per i botti abbiamo superato anche Napoli tutto questo si poteva evitare si sarebbe potuto evitare quindi è importante stimolare le coscienze degli altri e soprattutto nei nostri coetanei affinché non si abbandoni questo paese che ha molto da offrirci secondo te cosa può fare in concreto un giovane qui che abita il territorio per dare il suo contributo a contrasto dell'inquinamento concretamente proprio magari organizzerei anche non lo so delle giornate in cui si parla di questo argomento di questa tematica giornate nelle quali possiamo anche andare nei luoghi più soggetti a inquinamento a scarico di rifiuti e dare una mano ovunque sistemare e via dicendo però penso che la cosa fondamentale sarebbe fare informazione riguardo questa tematica sia sulle cause che sugli eventuali rimedi il Giro d'Italia 2023 partirà il 6 maggio da Fossa Cesia in Abruzzo due le tappe in Molise la prima lunedì 8 maggio in occasione della terza tappa che da vasto arriverà a Melfi passando per Montenero di Bisaccia Petacciato e Termoli la seconda venerdì 12 maggio in occasione della settima tappa che da capo arriverà al Gran Sasso toccando anche Venafro e proseguendo per Cerro e Rocchetta al Volturno verso Castel di Sangro e adesso appuntamento con la rassegna serale dedicata alle notizie dall'Italia e dall'estero a cura della nostra Antonia Cristinzio Carla eccoci al touchscreen per vedere le notizie di questa sera sul sito dell'ANSA l'eco compenso è legge Meloni che ha detto dignità e giustizia via libera dalla Camera con 213 voti a favore nessun contrario e 59 astenuti critiche dall'opposizione e Confcommercio che parla di un primo passo sul sito di Sky TG24 la Cina Xi Jinping che ha detto addestrarsi a combattimenti veri Taiwan ha detto Pechino è pronta a una guerra il presidente cinese ha parlato in occasione di un'ispezione navale dopo i tre giorni di esercitazione aeronavale attorno all'isola di Taiwan sul sito di Sky di TGcom24 Qatargate Eva Kaili esce dal carcere dopo oltre quattro mesi la giustizia belga ha disposto per l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo gli arresti domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico sul sito della Repubblica invece il video dei soldati russi ecco come si taglia la testa ad un uomo in circolazione sui social filmati di decapitazioni di prigionieri ucraini militari e mercenari di Mosca li tengono sui telefonini o li fanno girare per intimidire il nemico una tecnica già usata dall'ISIS Carla queste le notizie di questa sera grazie Antonia per gli approfondimenti sugli avvenimenti più importanti di oggi noi andiamo invece a vedere che tempo farà il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi mercoledì 12 aprile la giornata sarà all'insegna della stabilità atmosferica possibili passaggi nuvolosi nel pomeriggio ma senza fenomeni temperature in rialzo specie nei valori massimi venti sostenuti dai quadranti sud-occidentali mare quasi calmo temperature Campobasso minima 4 massima 17 Isernia minima 6 massima 17 Termoli minima 11 massima 18 Venafro minima 6 massima 20 Previsioni per domani giovedì 13 aprile l'aria più umida tenderà a valicare la barriera anticiclonica generando instabilità pomeridiana sui settori occidentali con la possibilità di temporali nella parte centrale della giornata migliore la situazione sulla restante regione e sole lungo la costa venti dai quadranti sud-occidentali mare poco mosso ma con aumento del motondoso temperature Campobasso minima 6 massima 16 Isernia minima 8 massima 16 Termoli minima 12 massima 21 Venafro minima 9 massima 19 E il meteo chiude l'edizione serale del TG di TV Molise grazie per averci seguito e buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti.